Primi giorni da nuovo questore della provincia di Pesaro Urbino per Francesca Montereali, primo questore donna del nostro territorio che a vicenda Raffaele Clemente andato in pensione. Romana, sposata e madre di due figli, la Montereali arriva a Pesaro dopo un'esperienza ultra trentenale fra questure commissariati di polizia e stradale fra i territori di Trieste, Agrigento, Brescia, Ferrara e Verona. Arriva a Pesaro da Bolzano dove il suo ultimo incarico è stato quello di dirigente del compartimento di polizia stradale del Trentino Alto Adice. Insediata sia a Pesaro lo scorso primo febbraio, per la Montereali sono primi giorni di conoscenza con un territorio che anche a livello di sicurezza sarà chiamato ad uno sforzo supplettivo nel 2024 di Pesaro, capitale della cultura. Questa è la capitale della cultura per l'anno 2024. Ho già ieri incontrato tutte le autorità del luogo, il sindaco, il prefetto, il sindaco, il presidente della provincia. Ho avuto modo già di partecipare al primo comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Non sarà evidentemente l'unico perché in questo anno ricco di impegni abbiamo già avuto il presidente della Repubblica. Prevedo che altre personalità potranno nel corso dell'anno giungere. La questione che più mi ha colpito è veramente un grandissimo affiatamento che c'è fra tutte le forze di polizia, coordinate in maniera splendida dal prefetto. Quindi penso che potremo lavorare bene. Sarà faticoso ma darà grandi soddisfazioni. Per la Monterreale inizia anche una nuova esperienza con una vecchia problematica comune ai suoi predecessori. Una questura di via Giordano Bruno sempre più decadente, una nuova questura individuata negli spazi della caserma del monte che ancora stenta a vedere il via del cantiere. Sono appena arrivata e non ho una profonda conoscenza delle problematiche. So e mi rendo conto che una delle cose da affrontare il più presto possibile è vedere la possibilità di trovare una nuova sede se è possibile per la questura o rendere le sedi che già abbiamo nel stato migliore possibile per garantire un ambiente decoroso sia per il cittadino quando viene in contatto con noi sia per il personale che quotidianamente ci lavora. Al di là dell'accoglienza anche rispettare tutte le esigenze di sicurezza.